Io abbiamo con noi, che ci intratterranno, abbiamo voluto, visto che il web è fatto anche di dolcezza, perché non è che ci sono solo personaggi, intrattenimenti. No, no, sono, guarda, abbiamo voluto portare della dolcezza per gli animaletti, che piacciono tanto ai bambini. Tutti. Sì, piacciono ai bimbi, ai ragazzini, anche agli adulti. E noi questa sera abbiamo con noi i cat, che sono due dolcissimi gattini che vorrei, appunto, Buonasera a tutti, Ariston! Buonasera, un applauso ai cat! Ciao, Edo, scusami, un'informazione, è qui il casino? No, non è qui il casino, questo è il teatro Ariston. Oh cavolo, abbiamo sbagliato, noi siamo qua per il gioco d'azzardo, le donne. Ma cos, ma voi siete un esempio per i bambini, no? Che gioco d'azzardo, cosa dite? Vabbè, però, scusa, ma quella è Diana del Bufalo! Sì, Diana, ciao! Ciao, Diana! Ciao, come va? Dovete sapere che Diana del Bufalo è diventata famosa, tanto è anni fa, con una bellissima canzone dedicata proprio a un gatto! Sì, è vero! A una gatta! Non era un gatto! Era una gatta! Che canzone era? C'è l'ho pelosa! Basta, basta, per piacere! Ma non tutti sanno questa cosa, quindi, infatti, non si dice, basta! No, no, basta, vogliamo dirvi solo una cosa, come si dice nel mondo dello spettacolo? Merda, merda, merda! Grazie! Ma è per piacere! No, dicevamo di come ha vestito Edoardo Mecca. Sì! Ah no, ma è Edoardo! Giorgio, ma spedimi tu! È bellissimo, Edoardo, dai, su! Ci vado io, tranquillo! Allora, cominciamo! Via! Via! Cominciamo subito e iniziamo con la categoria comedy! di...